Una volta bastavano il fossato e le mura esterne, oggi per proteggere la fortezza firma fede di Sarzana servono telecamere e sistemi anti-intrusione. Il MIBACT ha finanziato al complesso monumentale sarzanese 260.000 euro nell'ambito del progetto speciale sicurezza assegnato al Polo Museale della Liguria. A essere video sorvegliati saranno il fossato, i cortili interni e gli spazi espositivi del primo piano. Le telecamere monitoreranno gli accessi e sarà realizzata anche una nuova biglietteria più funzionale e adeguata, ha detto il direttore delle fortezze sarzanesi Raffaele Colombo, che ha portato la notizia al sindaco di Sarzana Alessio Cavarra. La fortezza firma fede venne realizzata per volontà di Lorenzo il Magnifico tra il 1487 e il 1492 e con questo sistema garantirà maggiore sicurezza anche per i visitatori. Da sempre un punto di riferimento per la proposta culturale di Sarzana e che, una volta dotato di moderni sistemi di controllo e di sicurezza, vedrà ulteriormente ampliate le proprie potenzialità, ha sottolineato il sindaco Cavarra assieme all'assessore alla cultura Nicola Caprioni. Grazie 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 Grazie